Gli STGs rappresentano uno strumento molto importante per la comunità internazionale, una grande opportunità per far sì che tutti i diritti umani fondamentali, quelli riconosciuti dalle Nazioni Unite dal 1948 ad oggi, diventino finalmente una realtà. È importante che questo strumento sia letto non come qualcosa di nuovo, ma come qualcosa che si inserisce in un percorso, un percorso che ha incontrato molte difficoltà e che ancora oggi le incontra, verso la realizzazione di società veramente inclusive. Per far questo, tutto quello che nella comunità internazionale è stato fatto in materia di tutela dei diritti umani deve continuare a essere fatto, anche con gli STGs. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.